Mostra di fine anno dell'Associazione Medici Pittori nel complesso monumentale di Sansevero Alpendino, nel cuore del Centro Storico di Napoli, nell'ambito dell'evento Autunno Creativo a Napoli. Per l'occasione le opere di 12 medici pittori fanno da scenografia ad uno spettacolo di danza contemporanea e per tutta la durata dell'evento Autunno Creativo a Napoli saranno lo sfondo per convegni medici e spettacoli teatrali. L'evento è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e raccoglie le iniziative artistiche e culturali che si svolgono in città fino alla fine del mese di novembre, tra gli espositori Alessandro Giammattei che sottolinea anche il valore sociale dell'iniziativa. Diversi medici uniti dalla passione per l'arte, per l'arte contemporanea che si esprimono in vario modo, si uniscono in questo momento nel loro percorso artistico e soprattutto nell'intento benefico che è quello che porta avanti l'associazione da anni e che è quello di sfruttare i nostri talenti per raccogliere denaro, raccogliere soldi per fondazioni ovviamente di tipo assistenziale. Siamo sempre dei medici e quindi beneficenza di tipo assistenza ai malati, soprattutto ai bambini.